Buon giorno ragazzi, quest'anno saremo sponsor del Morbo Rock un evento dove ci saranno un sacco di gruppi, rock ovviamente e ci sarà un sacco di gente, quindi vi aspettiamo al Morbo Rock Morbo Rock, 26-27 maggio, vi aspettiamo, rock and roll, yeah! Io la figa! Cazzo! Grazie a tutti!